Signori, è successo! Abbiamo il roster completo di Dragon Ball Spark in Zero e non solo, anche una clip con il roster completo addirittura in italiano grazie al canale EverYear spero davvero che si pronunci così, nel dubbio scusate canale che vi invito a seguire perché anche loro portano un sacco di bei contenuti oltre al Dragon Ball Spark in Zero insomma ci sono un sacco di costumi e accessori che poi vi farò vedere a fine video quindi iscrivetevi se non l'avete ancora fatto perché al raggiungimento dei 10.000 iscritti farò un giveaway dove regalerò ad ognuno di voi no, ad ognuno di voi no ad uno di voi una copia di Dragon Ball Spark in Zero beh, che state aspettando? iscrivetevi ora! alla fine signori, gli sviluppatori ci hanno trollato infatti i personaggi non saranno più 164 ma bensì 182 personaggi più il personaggio del pre-order che si è rivelato essere il Goku di Dragon Ball Daima che ricordo uscirà in contemporanea con Spark in Zero ovvero l'11 ottobre insomma questo mese sarà il mese di Dragon Ball praticamente il trailer ragazzi è stato fantastico o almeno lo sarebbe stato se solo non avessero spoderato tutto una settimana prima e mannaggia a voi ma non ci importa perché il roster è comunque strepitoso e raga vi ricordo che siamo nel 2024 e avere un roster del genere è già qualcosa di assurdo anche se abbiamo subito parecchie perdite come Super CD A7 e Draghi Malvagi di Dragon Ball GT oppure Rale o Devilman e alcuni che adesso non mi vengono in mente ma tanto vi starò facendo vedere il roster nel video così potrete fare il paragone ma prima di lasciarvi ho notato una cosa che mi ha lasciato un attimo perplesso ovvero la mancanza del grande maco piccolo o almeno io non l'ho visto eppure mi sembra strano perché hanno aggiunto Goku Kid e nel trailer però si vede chiaramente che sta combattendo contro Piccolo sarà forse che ci saranno ulteriori personaggi che potranno sbloccarsi tramite i zeni è una possibilità ci credo poco ma è comunque una possibilità ciao belli ciao ciao Grazie a tutti. 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 a tutti.